Novità dal secondo circolo didattico Giovanni Paolo II, situato ad Anci San Filippo. Sono infatti in dirittura d'arrivo i lavori per la creazione di una pavimentazione esterna antinfortunistica nel Plesso San Giuseppe, che ospita la scuola per l'infanzia. Prima dell'intervento di riqualificazione, iniziato il 15 aprile, la zona, adiacente alla struttura, si presentava in terra abbattuta, terreno fertile per ogni probabile incidente, specialmente se parliamo di bambini in tenera età. Il progetto, che a breve sarà portato a termine, prevede la presenza di una piccola area attrezzata in cui i giovanissimi alunni potranno giocare e inoltre lo spazio verrà utilizzato anche per ospitare spettacoli e saggi di fine anno, sempre realizzati dalla scuola.